Un saluto a tutti da Riccardo Cristiano e da Luigi Serafino Gallo, guida escursionistica. Vi porteremo a visitare il borgo di Sera Castagna, sopra l'ex comune di San Biase, nel comune di Lamesia Terme. Questo avverrà nei prossimi giorni, poi faremo una visita in apiario. Come vedete ci sono tante cose, tante cose da visitare. La visita in apiario in che cosa consisterà? Vedrete come le api producono il miele, vedrete ovviamente le arnie e poi ci sarà una buonissima degustazione appunto di miele e formaggi locali. Quindi mi raccomando 14 agosto 2021, appuntamento alle 8, Gurne di Caronte, per questa esperienza unica che è da Sera Castagna al tesoro delle api. Per fare cosa? Per capire quello che sono i borghi dimenticati. Andamento lento, c'è scritto sulla nostra locandina, vi invito a venire, i posti sono limitati, quindi affrettatevi, affrettatevi per prenotare. Andiamo!